Abbiamo piantato un seme, dice Don Luigi Merola, che rilancia l'idea di far nascere anche a Salerno una sede della sua associazione, A Voce dei Creature. L'idea, nata durante l'ultima consigliatura di Vincenzo De Luca, sembrava fatta, ed invece il preoggetto è rimasto solo sulla carta. Abbiamo proposto una cosa che già era in atto, la succursale A Voce dei Creature. Chissà, abbiamo buttato il seme e vediamo se questo seme crescerà. Magari, insomma, una struttura per aiutare, perché poi la lotta per la legalità è un po' dappertutto, non esistono zone franche. Sì, in effetti anche questo territorio ha necessità di avere queste oasi come A Voce dei Creature, dove i ragazzi a pomeriggio vengono seguiti, vengono guidati, fanno tanti laboratori, dalla pizzeria al teatro, alla musica, allo sport. Facciamo in modo che i ragazzi siano in luoghi sani e poi a 18 anni, tramite la Voce dei Creature, vengono inseriti nel mondo del lavoro. In questo modo togliamo la manovalanza dalla comunità organizzata. A raccogliere l'invito del prete impegnato da decenni nella lotta contro la Camorra è stata l'assessore alle politiche giovanili, Maria Rita Giordano. Andrò a vedere la delibera del tempo, ha detto la Giordano, che è stata una delle ospiti della serata organizzata dal sesto circolo didattico di Salerno Medaglie d'Oro. Una serata in cui i protagonisti sono stati i bambini, le loro famiglie, nella quale il prete Antica Morra ha parlato anche del suo ultimo libro, Oltre Ogni Speranza. Un libro che lancia su tutti un messaggio, il male dell'Italia e soprattutto l'ignoranza. Ignoranza alimentata anche da falsi miti. Scherzando, ma non troppo, Don Luigi Mero la dice. Siamo in un periodo di quaresima ed è peccato mortale vedere uomini e donne. Non sono i mezzi di comunicazione, fra cui anche la rete e il male, ma il loro uso che spesso li trasforma in un inferno. Il pomeriggio è stato aperto dai saluti della dirigente scolastica, Anna Maria D'Angelo, che ha rilanciato la necessità di rinsaldare il patto educativo tra scuola e famiglia. Un appello che è stato colto e ribadito dal giudice minorile Pasquale Andrea, che ha sottolineato come sia necessario sempre di più che l'anello base della società, la famiglia e la scuola viaggino insieme. Più pratico l'intervento del vicequestore Giuseppina Sessa, che ha dato consigli utili ai bambini e alle famiglie, ricordando come le forze dell'ordine siano sempre pronte a dare ascolto ed aiuto e come la legalità sia uno strumento per consentire a tutti di vivere meglio. È andato a ruba il libro di Don Luigi Merola, Oltre ogni speranza, un libro che vuole essere uno stimolo a non mollare mai. Spero che la lettura di questo racconto, scrive nell'introduzione, il prete porti il genitore a fare genitori, il prete a fare il pescatore di uomini, l'imprenditore a creare lavoro e a pagare il dovuto, mentre la camorra organizzata, come dice il testo, ogni oltre speranza, possa finire ritirandosi dai nostri territori martoriati con le mani alzate e lo Stato finalmente ritornare ad occupare i suoi spazi. Grazie a tutti i nostri spazi,